Oggi gli agricoltori però stanno dicendo un'altra cosa, gli agricoltori stanno protestando non solo contro le politiche comunitarie sbagliate e assolutamente matrigne nei confronti dell'Italia, ma stanno protestando contro quelli che in giacca e cravatta dovrebbero rappresentarli e si vanno a sedere nei poli sindacati come li chiamo io e devono dimostrare davvero che fanno gli interessi degli agricoltori. Se tu vedi tra le rivendicazioni loro prendono le distanze da quei poli sindacati, peraltro questo è un dato di fatto. Io sorrido perché ho letto le dichiarazioni di alcune associazioni agricole che dicono siamo vicini agli agricoltori che stanno manifestando. Se i sindacati che in Francia e in Germania sono a capo della protesta qui si mettono da parte e dicono condividiamo, siamo vicini, ma vicini a chi? Tu devi stare a capo della protesta, non al fianco della protesta. Ti devo salutare, ti ringrazio di cuore, ti richiamo più spesso. Grazie Salino Montaduri, ciao amico mio buongiorno a te. Ciao, 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 ciao. C'ha forza, c'ha forza, c'ha forza nelle vene, c'ha forza. Ci vuole una forza questi cose Fabio, da credere, da sapere il fatto, capito?